vado all'occo ora provate ma what's up guys qui è il vostro Naked che vi parla ragazzi potete tornare con un nuovo video signori miei nazionari oggi porchio sono qui per portarvi un'altra versione di un'arma che mi sta facendo innamorare che vi ho dimostrato sia sul campo sia statisticamente parlando essere la più forte da corto e medio raggio eccolo qua ancora l'MCW sempre con il kit di conversione ma in questo caso l'ho abbinato a un cecchino quindi nuova build per lo sniping support visto che molti di voi me l'hanno chiesta fatta la build provata e raga che ve lo dico fa potente poco recoil certificata nazionale la build parte con il calcio tattico MCW canna lunga da 16 freno casus come volata e caricato rones da 40 col poloni raga c'è poco da dire nel senso che ci sarebbe tanto da dire perché non è una mitraglietta però vi ho fatto anche una build per usarla in cross range che a livello di movement l'ho fatta che è quasi come una mitraglietta sulla carta vi ho fatto vedere che è più forte delle mitragliette meta quindi sostanzialmente averla in mano sia per il corto sia per il medio significa essere più avvantaggiati rispetto ai vostri enemies il consiglio di oggi è provatela e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate noi belle mia ci vediamo domani con il prossimo video bella regaz raga sono passato attraverso le mine hanno aumentato il moltiplicatore no ha diminuito il moltiplicatore da 1 a 1 è sceso a 1 cioè è 1 per quindi non è più moltiplicatore mamma mia fra che blessato che sei zio porco però non mi va di lasciarti lì capito mi va proprio questo vorrà fregarmi vorrà farmi la mossa del diablo dai se lo spalma cazzo l'unica cosa se posso permettermi è stato nerfato nerfete nerfete vado all'occo ora provate mamma rocarmi il marchetta c'è rog e lenovo con i portati non te lo dico io perché la sponsorizzo te lo direbbe chiunque non c'è proprio gara sono su due pianeti completamente anche di prezzo giustamente cazzo mi sto sparando non l'ha killato quello ma vaffanculo pensavo avesse killato quello che mi ha proprio scassato la minchia raga giuro hai rotto il cazzo fra giuro minchi con tutto il bene del mondo frate mamma mia voglio quello il più temuto di tutti porchio il diulous grazie buon dio grazie amore eh fra anche tu l'avevi rotte gli scolionos porco zio grazie buon dio grazie amore grazie striker e insieme anzi in realtà l'arma con in mano gabri è più forte sia dell'hrm9 che dello striker 9 questa che ho in mano bro che giro ha fatto questo pazzo scatenato dentro aspetta pushami fra dai pushami 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 ora ci avrei scommesso le palle che aveva l'autoressa però fra giusto perché sei un rotto in culo da lì non ti faccio uscire proprio un altro autoressa ma sul serio raga grazie per favore per favore fra ti prego giuramelo proprio basta presenziare sormando di presenziare bro io c'ho qualcuno sotto al cento per cento nice shit mi ha detto lol si chiama audio frate ogni tanto si sente non sempre no sempre vamo